Aho, scusate il paio di minuti di ritardo, ma stavamo guardando Drag Race, non ce l'avevamo accorti dell'ora. Come va? Intanto spero che ci siano molte persone collegate, condivido anche un attimo solo, condivido anche su Discord il link, anche se è sempre lo stesso link, però magari siete un po' abituati con YouTube. Ciao Miriam, ciao Daria, ciao Marco, ciao! Allora, sto condividendo il link su Discord, ma ho internet che va lentissimo, purtroppo, quindi ci vorrà un attimo. Come state nel frattempo? Raccontatemi un po'. Ecco, invia il messaggio. Allora, come va? Ok, mi dispiace l'aria che sei raffreddata. Ciao Ale. Ok. Grande Miriam. C'è Mariko. Tiziana. Ok. Marta. Piano piano state arrivando. C'è Giulia. Buongiorno, buongiorno. Come state? Allora, io oggi parlerò un po' con la voce così, per via dell'allergia. Ciao Tegamina. Tegamino, scusa. Ciao Graziella. Buonasera. Allora, oggi parliamo, finalmente entriamo nel vivo di questo book club, perché inizieremo a commentare, a rispondere alle domande su Namamico. Namamico, l'inganno delle sciamane, che è il primo libro che stiamo leggendo. Oggi lo dovevamo, c'eravamo, diciamo, prefissati di leggerlo fino a pagina 103, inclusa. Spero che siete tutti più o meno in pari. Ciao Carmen. Ciao. C'è anche Lidia. Ok. Allora, spero che, insomma, siete riusciti a tenere il passo. Questa volta, col Genji, c'eravamo dati circa 30 pagine a settimana. Però ho pensato che questo libro, essendo forse un po' più facile, specialmente per chi già aveva letto il Genji ed è abituato a questo tipo di background, mi sono immaginata che sarebbe stato più facile, quindi l'ho proprio diviso in due parti. Io devo dire che l'ho riletto molto velocemente. Quindi, insomma, direi che possiamo iniziare col parlare del libro, riassumere un po' quali sono gli avvenimenti di questa prima parte, dare anche un po' un contesto storico, perché mi rendo conto che per chi non sa la storia giapponese, e chi non conosce molto bene questo particolare periodo storico magari è un pochino confusionario. Quindi, magari facciamo anche un piccolo escurso storico e poi rispondo alle vostre domande. Ok? Allora, iniziamo. Partirei proprio dal background, dal background storico, che appunto è sostanzialmente fondamentale per questo libro, perché il libro parla dei giochi per la conquista del potere nella corte Heian, a cavallo fra la fine, veramente, degli ultimissimi anni del X secolo e l'inizio dell'XI secolo. Siamo intorno all'anno 1000, che è proprio l'epoca in cui è vissuta Murasa Kishikibu, in cui lei ha prestato servizio a corte. Allora, sarebbe stato meglio se Stafara avesse messo un albero genealogico all'inizio, ok Miriam, adesso facciamo anche l'albero genealogico. Io non ho fatto lo schema, però adesso vi cerchiamo di riassumere un po' insieme. Esatto, come dice Marco, lo facciamo noi. Ciao Taccio, da lavoro! Tutti a lavoro, cavolo, mi dispiace, spero che non vi bacchettino. Allora, dai, andiamo. Mamma mia. Oggi c'è tipo polline ovunque. Infatti non respiro neanche. Allora, cosa sta succedendo in questo momento storico in Giappone? Il Giappone è ancora un governo centralizzato che di facciata viene gestito, viene appunto condotto dalla figura dell'imperatore. La verità però è un'altra, ovvero che in questo periodo storico, già in realtà dal secolo prima, famiglie di nobili particolarmente potenti iniziano ad esercitare il loro potere, iniziano a prendere possesso del potere de facto, attuando tutta una serie di politiche, di matrimoni e di controllo, diciamo, degli imperatori, dei giovani imperatori. Che cosa si faceva? Allora, iniziamo intanto da... andiamo un po' più indietro. Andiamo al periodo Aska, quindi circa 200... No, un po' di più, 300 anni prima. All'inizio della vera e propria dinastia imperiale giapponese. All'epoca l'imperatore doveva avere almeno 30 anni. Va bene, va bene Marco. Dicevo, l'imperatore all'inizio doveva, per salire al trono, doveva avere almeno 30 anni perché si riteneva che dovesse essere una persona con un certo tipo di esperienza che soprattutto riuscisse a fare da mediatore, soprattutto una serie di capi famiglia, di famiglie o di comunque nobili che avevano delle influenze sui vari territori e che facevano parte di una sorta di consiglio, un consiglio di stati. Quindi inizialmente l'imperatore era una figura quasi di mediatore. Dopodiché col periodo Nara e con la promulgazione della legge del Rizzurio si abolisce questa federazione di stati, si accentra tutto quanto sotto il potere di un'unica persona che è l'imperatore ed effettivamente all'inizio questa cosa funziona. Cioè nel senso è veramente l'imperatore che de facto prende le decisioni. Però che cosa succede? C'è la pubblicità, mi dispiace, Ale, mi dispiace. Purtroppo è il problema di Twitch che chi non è abbonato si becca la pubblicità. Non sono ancora riuscita a risolverlo, scusa. Comunque dicevo semplicemente che nel periodo Asuka l'imperatore doveva essere una persona molto matura è in grado di prendere delle decisioni per davvero. Mentre che cosa succede? Tra la fine del periodo Nara e l'inizio del periodo Heian sono sempre di più queste famiglie particolarmente potenti, particolarmente influenti che iniziano diciamo a, un bocconcino alla volta, a rosicchiare questo potere dell'imperatore fino a che si arriva alla situazione descritta in Namamico. Ovvero l'imperatore è un mero burattino, è una semplice figura di facciata le cui decisioni, la cui condotta, deve sottostare completamente al volere di quelli che sono i suoi consiglieri. Perché? Perché questi consiglieri per tutta una serie di giochi di politiche, di matrimoni sono arrivati ad essere i loro parenti stretti. Cosa succedeva? Che in particolar modo la famiglia dei Fujiwara che poi anche la famiglia che Namamico combatte all'interno della stessa famiglia c'è proprio una lotta intestina fra fratelli la famiglia Fujiwara dà in moglie, le proprie figlie, gli imperatori fa in modo che i bambini nati da queste unioni vengano poi a loro volta nominati imperatori quando sono molto piccoli e quindi non hanno la facoltà di prendere decisioni oculate da soli e quindi i nonni e gli zii fanno un po' loro da consiglieri e piano piano iniziano a diventare delle figure imprescindibili senza le quali l'imperatore non può più muoversi. Quindi questo è lo schema politico che c'è in atto in Namamico In particolare qui vediamo forse il periodo più aspro di questa politica detta Second Seiji la politica Second ovvero la lotta interna alla famiglia Fujiwara tra i tre fratelli anzi in particolar modo fra i due fratelli Michinaga e Michitaka in altre volte mi sbaglio giusto? Michitaka sono entrambi figli di uno del primo forse grandissimo consigliere di Fujiwara che è un grandissimo uomo politico molto astuto che riuscì in primo luogo appunto a attuare queste politiche dei matrimoni e del controllo dell'imperatore che però all'inizio, come vediamo, all'inizio di questo libro muore lasciando un vuoto di potere che a quel punto i suoi figli cercano di riempire facendosi la guerra l'uno contro l'altro inizialmente sembra che il fratello maggiore ovvero Michitaka abbia la meglio che sia un po' il favorito della sorte perché era il favorito anche del padre e perché è riuscito per primo a dare in sposa la sua figlia prediletta Teishi all'imperatore Shijuo che è ancora un bambino poco più di un bambino mentre Teishi ha già 5-6 anni più di lui e inizialmente appunto sembra che debba essere lui e la sua famiglia a riprendere le redini del governo però quello che Michitaka non ha messo in conto è che suo fratello minore, Michinaga è un uomo molto assedato di potere molto subdolo, molto calcolatore e che sta tramando alle sue spalle e di fatto poi all'interno di questo romanzo vedremo proprio di fatto come Michinaga attua questo piano per rubare il potere alla famiglia del fratello anche se poi come vedremo i fatti reali la verità storica poi si miscola con quella che è la finzione di Ancefumiko questa storia di sciamane di false possessioni e per adesso mi limiterò ai fatti mi limiterò a dire che nonostante l'inizio appunto la famiglia di Michitaka sembri proprio raggiungere l'apito l'apito, l'apice l'apice del mondo la verità del mondo Michitaka poi muore improvvisamente muore quando i suoi figli sono ancora molto giovani e nonostante abbiano raggiunto tutti posizioni molto alte non hanno più nessuno che li protegga come abbiamo visto nel Genge era molto importante avere dei parenti influenti che ti parassero il cosiddetto di dietro questi ragazzini rimangono completamente scoperti con tutta la famiglia che trama alle loro spalle inclusa la madre dell'imperatore Ichijo che è a sua volta sorella di Michinaga Michitaka che però parteggia per il figlio il figlio il fratello minore e quindi appunto tutti iniziano a tramare contro questi tre fratelli rimasti ormai orfani e alla fine effettivamente Michinaga riesce ad ottenere ciò che vuole perché Korechika e Takai che sono i due figli maschi di Michitaka che avevano appunto già raggiunto delle posizioni altissime vengono esiliati uno mi sembra che venga pure ucciso adesso non vorrei svarionare però Teishi che era appunto la consorte imperiale era entrata a corte con la nomina più alta per una moglie imperiale invece muore nell'adottare miseria questi sono i fatti storici mi sto limitando non sto facendo spoiler sul libro vi sto dicendo i fatti storici viene completamente lasciata in disparte e muore giovanissima di parto la figlia di Michinaga Shoshi invece entra a corte in una posizione diciamo fatta ad hoc per lei come primissimissimissima concubina c'è quindi nonostante Teishi avesse già la posizione di moglie privilegiata quando Shoshi entra a corte le viene affidata una nuova posizione di moglie ancora più privilegiata e da lì in poi i figli di Shoshi vengono nominati rete al trono e da lì in poi l'ascesa di Michinaga e di tutta la sua famiglia diventa inarrestabile almeno per un paio di generazioni fra l'altro piccolo fan fact che però sono sicura vi interesserà intorno a queste due consorti imperiali si sono mosse le due più grandi scrittrici del periodo Heian una l'abbiamo conosciuta molto bene l'anno scorso perché è Murasaki Shikibu Murasaki Shikibu stava dalla parte del male in questo caso cioè non del male però lei serviva Shoshi quindi la figlia di Michinaga mentre Seishonagon che è l'autrice delle note del guanciale era la la donna più brillante al seguito di Teishi quindi è molto interessante vedere come in realtà tra le pieghe di queste lotte per il potere comunque siano nate delle cose incredibili effettivamente che ci abbiano regalato queste due grandissime scrittrici queste due grandissime letterate allora questo è un po' il background storico spero di non avervi annoiati troppo adesso entrerei proprio nel merito di quello che è il libro il libro si apre con un episodio autobiografico più o meno vero simile di Enchi Fumiko dell'autrice che da piccolina dice di essere vissuta praticamente in mezzo alla grazie te gamino grazie mille per l'avvoramento un bacio che dice appunto di essere vissuta fra migliaia centinaia di migliaia di libri perché il padre che era effettivamente un docente all'università di Tokyo aveva ereditato la sconfinata biblioteca di Chamberlain che è stato uno dei più nel periodo meggi uno dei primi e anche dei più celebri studiosi del giapponese della letteratura giapponese quindi Enchi dice che Chamberlain aveva questa biblioteca sconfinata ma era sicuro che riportandosela in Europa nessuno sarebbe stato in grado di apprezzarla e quindi la lascia a questo suo collega che sarebbe il padre di Enchi c'è questa scena molto bella di lei bambina fra questi libri incomprensibili e che però durante l'adolescenza quando finalmente inizia a comprendere un po' la scrittura la scrittura corsiva lei inizia a leggere a divorare un libro dopo l'altro ed è così che si imbatte in questo antico romanzo chiamato Namamiku Monogatari quindi la storia di false sciamane che sarebbe una sorta di riscrittura dell'ega Monogatari che è un libro che esiste veramente un libro del periodo Heian anche questo scritto dalla poetessa Kasome Emon che io adoro io pure lo sticker di Kasome Emon da quanto l'amo che in realtà narra ho appena trovato dei soldi scusate ragazzi stavo rimettendo ho preso una cosa per prendere un segnalivo e ho appena trovato una busta di soldi ecco userò questo dicevo no si è raga ho trovato dei soldi sono felicissima ho trovato una busta di soldi scusate era per motivare che avevo fatto una faccia strana cercavo un pezzo di carta per fare un segnalibro e mi sono ritrovata a 4000 yen vabbè scusate ho perso il filo ah no si l'ega Monogatari che sarebbe appunto il racconto storico semi storico semi lecca quella cosa là dell'ascesa di Michinaga al potere questo libro l'ega Monogatari è stato scritto mentre Michinaga era ancora in vita quindi chiaramente l'ultima parte è una leccaculata proprio fotonica però appunto i fatti che narra sono effettivamente il susseguirsi di fatti che porta Michinaga a diventare effettivamente l'uomo più potente della corte Heian la cosa che colpisce Enchi è che questo Namamiko Monogatari che chiaramente non esiste non si sa se è esistito ma probabilmente non è mai esistito la cosa che la colpisce è che nonostante ripercorra più o meno gli stessi fatti dell'ega Monogatari è stato scritto dalla prospettiva opposta ovvero da una prospettiva che vede Michinaga in modo ostile e che invece parteggia per la famiglia degli sconfitti quindi la famiglia dei discendenti di Michitaka quindi Teishi prima fra tutte Teishi che è un po' l'eroina di questo romanzo e poi di sui fratelli e in questa storia appunto proprio come suggerisce il titolo si inseriscono due personaggi che nell'ega Monogatari non vengono assolutamente nominati che sono queste due sorelle figlie di una sciamana più o meno fin qui ci siamo io vi volevo far vedere una cosa vi volevo far vedere Enchi cosa il tenore della roba che si è letta se effettivamente in sesta elementare quindi a 11 anni si leggeva i libri antichi vuol dire che lei sapeva decifrare queste robe è vero che erano altri tempi però stio complimenti a 11 anni non riuscivo manco a leggere la mia calligrafia a volte complimentoni allora iniziamo a entrare proprio nel merito di quello che succede nel libro se voi siete d'accordo aspettate un attimo allora questo libro si apre con un secondo solo per chi non mi ricorda da che fatto inizia allora questo libro inizia con i fatti narrati appunto da lega monogatari in cui si parla dell'entrata di Teishi a corte Teishi viene fatto entrare a corte prestissimo quando il Shijou ha appena fatto la sua cerimonia ed è entrata nell'età adulta ed è solo un bambino in fretta e furia appunto viene fatto sposare con Teishi questa già di per sé è chiaramente una manovra politica ovviamente quindi il libro si apre proprio con questo fatto e poi continua con quello che è l'inizio del declino l'inizio il casus belli ovvero la morte di Kaneie che in questo caso sarebbe il nonno di Teishi e il padre di Michinaga e di Michitaka e anche in questa occasione si parla di un malessere che sembra dipenda da delle entità malvagie però tutte le malattie nel periodo Heian si pensava dipendessero da delle entità malvagie però ecco si ferma lì e poi si inizia si introduce così a bomba questa strana mossa di Michinaga ovvero il fatto che lui decide di recarsi a Miwa che è un tempio non tempio è un santuario bellissimo che c'è a Nara da una sciamana che più volte ha prestato i suoi servizi per la famiglia Fujiwara questa Miwa no Ayame no aspetta Ayame è la sorella Miwa no e si no Miwa vabbè non mi ricordo raga scusate non mi ricordo i nomi di tutti Ayame è la sorella più grande insomma da questa sacerdotessa di Miwa e gli chiede le chiede di poter portare a corte le sue due figlie ha due figlie una di 15 anni e una di 12 che si chiamano rispettivamente Ayame e Kureha questa sacerdotessa e qui c'è un passaggio effettivamente molto bello molto emblematico in cui si introduce molto bene la figura della sacerdotessa e della medium questa sacerdotessa è diciamo un po' imbarazzata dal fatto di aver concepito delle figlie perché si pensava che le sacerdotesse fossero serve degli dei anche dal punto di vista sessuale adesso Twitch mi bannerà perché ho detto sessuale cioè lo stato di trans lo stato di il fatto di entrare in trans di fare da medium era un qualcosa che in un certo senso coinvolgeva non solo la mente ma era proprio una roba anche fisica anche corporale motivo per cui era proprio quasi un'unione fra la medium la sacerdotessa e la divinità per cui si supponeva che la sacerdotessa dovesse mantenersi pura e non appunto contaminarsi con le cosacce sporche però fatto sta che andava diversamente perché comunque erano donne pure loro poi nessuno le controllava per cui alla fine questa qui aveva avuto queste due figlie nel momento in cui Michinaga chiede di poter chiamare a corte queste due figlie la sacerdotessa è da una parte anche quasi sollevata perché il fatto che le entrino a corte le esonererà dal dover seguire la sua stessa sorte di sciamana questo perché cioè perché la la sacerdotessa di Miua non vuole che le figlie diventino sciamane perché si è accorta che molto spesso il farsi tramite di divinità ha causato molta sventura ha portato sventura ha causato la morte di alcune persone primo fra tutti l'uomo chiamava il padre delle sue figlie perché per colpa di una sua predizione è stato mandato a lottare contro dei barbari dei briganti delle montagne ed è morto per cui lei vuole che in nessun modo le figlie debbano portare questo peso sulle loro spalle e il fatto che vengano chiamate a servire a corte da una parte effettivamente lei non si può rifiutare perché non è che se ti arriva Michinaga e ti dice oh senti mi fai così non è che gli puoi dire di no però in generale questa richiesta la tranquillizza da un certo punto di vista che le figlie non seguiranno la sua stessa strada e niente praticamente Michinaga a un certo punto le separa e manda Kureha che è la più piccola la manda a servizio direttamente a corte a servizio della prima consorte di Daishi le dice di non dire a nessuno che è il suo protettore di non rivelare a nessuno il fatto che loro sono in qualche modo conoscenti la cosa viene fatta insomma nel più assoluto segreto però insomma la manda inizialmente Kureha a parte il fatto che è piccolissima è ancora una ragazzina però all'inizio non capisce che cosa c'è dietro perché il piano di Michinaga si svederà via via e niente Kureha inizia a prestare servizio appunto per Teishi il fatto che sia in un certo senso anche un po' campagnola tra virgolette per niente maliziosa molto solare fa sì che Teishi la prenda un po' sotto la sua alla protettrice e quindi la tenga sempre vicina a sé anche in momenti di estrema intimità come per esempio quando l'imperatore la va a trovare e va a passare la notte con lei per cui Kureha si ritrova in questa posizione di osservatrice diciamo privilegiata di tutto quello che Teishi fa e al tempo stesso inizia a sviluppare per la sua padrona una sorta di amore platonico che sfiora quasi l'omosessualità cioè vede in Teishi la perfezione la perfezione femminile perché ha tantissimi talenti è bellissima sembra un fiore c'era tutte leffie solo lei e anche al tempo stesso ha una carica erotica pazzesca che fa in modo che l'imperatore Ichijo straveda per lei un po' perché è anche un po' la prima donna che ha conosciuto lui molto piccolo lei molto materna oltre che sensuale tutto il resto quindi Ichijo è completamente ammaliato dal fascino di Teishi e così inizia a esserlo anche Kureha se mi perdo qualcosa per favore raga stoppatemi tipo iniziate a dire le cose perché io voro un attimo di perdermi tra l'altro Miriam ha detto infatti mi chiedevo come facesse Anci a citare interi pezzi di Namamiko se l'aveva letto solo da bambina e poi era andato smarrito beh chiaramente è una finzione cioè lei non Namamiko non è mai esistito probabilmente e le cose che lei cita se le inventa però nella finzione di questo romanzo Namamiko è un libro che è esistito sul serio che non si sa se è vero non si sa se narra dei fatti reali già dentro all'interno dell'economia del romanzo potrebbe essere una storia di fantasia come no però sì cioè chiaramente non esiste sul serio Carmen scrive Laura di perfezione di grazia con cui viene descritta Teishi nel Namamiko mi sembra molto in linea con la descrizione che ne fa Seishonagon nelle note del guanciale è verissimo c'è molto di Seishonagon io vi dirò di più io in Teishi rivedo moltissimo delle descrizioni che Murasaki Shikibu fa di Murasaki no We cioè quando la paragona a questi fiori che non appassiscono mai questa serenità questa tranquillità questo ma al tempo stesso il fatto che è così sensuale io ci rivedo moltissimo delle atmosfere di Murasaki no We e poi alla fine della cosa cioè alla fine del romanzo vi dirò un'altra considerazione che ho fatto se vi ricordate le live del Genji magari già vi suona qualcosa in testa però ve lo dico alla fine un altro parallelismo che mi è venuto in mente fra Teishi e Murasaki no We e mo aspettate che succede allora vabbè niente qui inizia a prestare servizio presso Teishi in un'epoca in cui comunque con con Mishitaka al potere quindi col padre di Teishi al potere lei effettivamente si fa la bella vita sembra che niente debba arrivare a turbare la sua serenità alla posizione che lei ha acquisito e soprattutto lei non sembra neanche curarsene molto perché sembra questa creatura proprio superiore a qualsiasi tipo di smania politica di controllo completamente persa nella sua bellezza nella sua quasi nel suo essere quasi trascendentale è in questo suo amore verso Ichijo che è però l'amore di una sorella maggiore quindi anche nel suo modo di amare è pura è perfetta è intaccabile no è intoccabile intaccabile oddio raga non so più parlare un sacco di gente c'è cascata è la cosa del amico no raga no 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 cioè il namamico non è mai esistito probabilmente cioè magari lei aveva veramente un libro che si intitolava namamico qualcosa però non tipo il titolo ci poteva assare però probabilmente quasi niente di quello che ho riportato qui è vero tutti fregati sì e niente passano un paio di anni sparsi feste cose se non che a un certo punto Mishitaka si ammala Mishitaka si ammala inizia a stare molto molto male e sembra proprio probabilmente perché è un ubriacone loro giustificano questo suo star male perché si è rovinato lo stomaco forse di bere alcol e niente praticamente lui stesso realizza che gli resta poco da vivere e come ultimo atto della sua carriera in punto di morte si trascina fino al cospetto dell'imperatore e gli chiede di nominare suo figlio Corecica quindi il suo figlio maggiore cancelliere finché lui è appunto malato e non può esercitare il suo ruolo quindi cerca in un certo senso di assicurare ai propri figli una stabilità di riassumere la sua stessa posizione l'imperatore senza neanche consultarsi con la madre che poi vedremo una figura centrale di questo di questo inganno per il potere senza neanche consultarsi con la madre accetta di accetta probabilmente per amore di Deishi soprattutto di nominare Corecica come cancelliere momentaneamente e così succede se non che effettivamente questo gesto fa infuriare l'altra metà della famiglia la metà cattiva e la madre la senshi l'imperatrice madre in ritiro va ad Aishijou e loro gli fa tutta una menata di perché tu non mi ami più adesso pensi solo a tua moglie e la tua mamma tu non mi vuoi e perché non ti sei consultato e Corecica è un pischello la prossima volta non lo farei mai più bla 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 no? E che comunque però è un problema diciamo passeggero dal momento che poi Michi muore tira il calzino e a quel punto bisogna nominare un suo erede vero quindi non una persona provvisoria una personalità provvisoria e lì a quel punto entrano in scena tutti i poteri contrari alla famiglia di Michi Taka che iniziano a a fare pressione sui Shijou in un momento in cui l'influenza di Teishi è molto lontana perché chiaramente lei si è recata a casa per dare un ultimo saluto al padre prima che morisse è stata contaminata dal lutto è stata contaminata dalla morte e lei adesso per 49 giorni non si può muovere da casa sua e sono 49 giorni in cui Michinaga e la sorella quindi la madre di Shijou cercano in tutti i modi in tutti quanti i modi possibili di convincere Shijou a non ridare il potere a Core Shika perché si rendono conto che l'affidare il potere adesso al discendente di Michi Taka è diciamo una sorta di suicida nel senso a meno che un ragazzo super giovane super pimpante come Core Shika non muoia dopo domani molto difficilmente l'altra metà della famiglia sarebbe in grado di mettere le mani sul potere quindi devono in tutti i modi impedirgli di nominare Core Shika consigliere lo mettono più volte sotto pressione fino a fino a che appunto Ichijou non nomina Michi Kana all'inizio che poi muore pure lui tipo tre giorni dopo muore anche l'altro zio pam pam uno dopo l'altro e a quel punto sempre con le pressioni diciamo di sensi di Michi Naga alla fine è Michi Naga che viene nominato consigliere cancelliere adesso mi dovete perdonare io non mi ricordo di preciso l'ordine dei fatti perché mi sono scordata di prendere appunti quanto mi era mancato il tuo tirare il calzino scusate raga ma non si dice in italiano tirare il calzino è solo toscano cioè tirare il calzino vabbè non importa domanda ah ok va bene a Brescia non si dice forse io a volte non mi rendo conto dove finisce il toscano e dove inizia l'italiano cioè veramente tirare le cuoia sì tirare le cuoia è proprio bello tirare il calzino chissà perché si dice tirare il calzino vabbè non importa new base meme va bene allora scusate non mi ricordo in quale periodo preciso della narrazione si arriva al fatto che Teishi intanto si scopre incinta Teishi si scopre incinta e questo aggiunge diciamo un po' di fuoco al culo a Micinaga perché perché se Teishi dovesse dare la luce a un maschio e questo maschio venisse nominato re del trono e gli venisse affibbiato come consigliere corecica per loro proprio sarebbe la fine non ci sarebbe assolutamente più modo di mettere le mani sul potere in secondo luogo la madre di Chijo si ammala si ammala per un breve periodo in cui si iniziano a praticare tutti dei rituali delle robe le storie robe tipo preghiere rosari lanci di acqua papaveri e papere e che cosa succede? e qui arriva il fattaccione ovvero in un giorno in cui Chijo decide di recarsi dalla madre per appunto assicurarsi vedere come sta una delle fanciulle che stanno prestando servizio presso di lei che chiaramente è Ayame forzata da Michinaga in scena una possessione una possessione spiritica e dice di essere lo spirito di Teishi che è arrabbiato perché Senshi le mette i bastoni fra le ruote appunto insomma dice come se appunto Teishi ce l'avesse con la famiglia di Chijo e con sua madre e il suo spirito vivente la stessa in questo momento tormentando e il fatto è che dal momento che Kureha ha spiato e ha imparato e ha osservato con tantissima attenzione negli anni il comportamento di Teishi e l'ha raccontato alla sorella ignora di tutto in realtà senza sapere che in un certo senso era stata manipolata lei racconta molto candidamente alla sorella quello i modi di Teishi come parla come ragiona le cose che si dice anche con l'imperatore nei momenti più intimi insomma Kureha spiattella un po' tutto ingenuamente e Ayame utilizza queste informazioni per inscenare una possessione di Teishi talmente convincente che Ichijo per un attimo ci crede anche se non vorrebbe crederci però rimane veramente fortemente impressionato da questa possessione così verosimile tant'è che per un periodo lui non si reca neanche da da Teishi cioè è stato talmente suggestionato da questa cosa che è molto diviso non so se credere a questa a questa possessione o se invece fidarsi della sua amatissima moglie però è comunque molto ditubante e tra l'altro Teishi è l'ultima a venire a sapere di questa cosa perché chiaramente lei è l'imperatrice cioè figurati se qualcuno si permetterebbe mai di andarle a dire ehi ciao ma lo sai che il tuo Ikirio sta facendo sta tormentando l'imperatrice ritiro cioè nessuno glielo dice ed è il suo fratello minore quello un pochino più ammascato un po' più furbo Takaiye che alla fine le parla veramente a quattro occhi Teishi rimane sconvolta da questa notizia ci sta malissimo e prega il fratello diciamo di intercedere per lei con Ichijo per convincerlo che lei non c'entra niente effettivamente Ichijo si lascia persuadere torna a incontrare Teishi il loro amore diciamo sboccia anzi sembra essere ancora più forte di prima e questa per Michinaga è un'enorme sconfitta perché lui aveva architettato tutto questo piano che poi in realtà è solo la prima fase del suo piano però lui aveva architettato tutto questo piano perché vuole a tutti i costi allontanare Ichijo da Teishi il piano finale il piano finale di Michinaga è chiaramente quello di essere lui il nonno del futuro imperatore e quindi di far entrare a corte Shoshi la sua figlia che al momento però è ancora troppo piccola e che lui conta di istruire sul modello di Teishi cioè lui vuole che sua figlia sia all'altezza se non addirittura superi il fascino di Teishi in modo da conquistare l'imperatore e da dare alla luce un'erede che poi salga effettivamente al trono e per farlo ha bisogno non solo di spiare Teishi ma anche bisogno di in qualche modo freddare questa passione che Ichijo nutre nei confronti della sua prima moglie quando Kureha scopre che è stata manipolata ci rimane molto molto male ci rimane malissimo perché lei non si era accorta inizialmente del piano di Michinaga lei inizia solo ora a realizzare quanto sia spaventoso e subdolo questa macchinazione e ci rimane così male perché comunque lei ama Teishi lei vuole bene la sua padrona la stima e il fatto è che qualcosa che lei ha fatto l'abbia messa così a repentaglia l'abbia messa così in difficoltà la fa stare la fa sentire molto male e però che cosa succede non lei non decide di abbandonare il gioco di lasciare il gioco perché è stata usata e non vuole più in un certo senso ferire la sua padrona dice no se io me ne vado arriverà un'altra al mio posto Michinaga sarà pieno di pedine piuttosto sto io qua che faccio il doppio gioco e cerco di proteggere la mia padrona quindi lei alla fine resta e più o meno ci siamo no mi manca di dire che adesso che appunto non c'è più una protezione per i fratelli di Teishi loro alla prima alla prima cavolata che fanno vengono esiliati chiaramente e Teishi rimane praticamente da sola alla capitale senza nessuno nessunissimo che le guardi le spalle ed è protetta semplicemente da questo amore sconfinato che l'imperatore nutre per lei mi sono dimenticata di dire qualcosa di questi primi tre capitoli mi sono dimenticata di dire che Kureha adesso ha un amante un amante che però è una guardia imperiale e anche questo però amore è stato in realtà una macchinazione di Michinaga che ha fatto in modo che durante uno degli spostamenti di Kureha perché lei ogni tanto vada a questa monaca a riferirle appunto che cosa vede fare a Teishi durante uno di questi spostamenti fa in modo che venga attaccata da un branco di banditi che tutti scappino e la lasciano sola e che questa guardia di palazzo la salvi ignara in realtà anche anche la guardia anche questo Yuki Kuni non sa del piano di Michinaga la salva e tra loro nasce una sorta di storia d'amore quindi questo dovrebbe essere più o meno quello che succede inizialmente all'inizio di questo nella prima parte di questo libro allora leggiamo un po' di commenti che stanno arrivando allora Dijo al momento della tumulazione per evitare di seppellire i morti a piedi nudi si provvedeva a rivestire la salva con dei calzini ma spesso succedeva che la misura delle calze era del tutto casuale a volte di taglia piccola che mai si adattava ai piedi per questo motivo si era costretta a tirare il calzino sto volando veramente veramente questa l'etimologia di tirare il calzino sto mai bellissimo ad ovo allora Miriam scrive l'episodio dell'Ikirio mi ha fatto molto riflettere leggendo il Genji quando Rokujo viene fortemente sospettata di emanare un Ikirio mi ero fatta una risata leggendo una mamico mi sono resa conto che per una donna dell'epoca essere accusata di aver inviato un Ikirio era un problema vero un dramma assolutamente sì assolutamente sì anche perché ero in un mondo così piccolo dove tutti si conoscevano era il mondo dell'aristocrazia di Kyoto sostanzialmente la tua nomea la tua reputazione era tutto era proprio tutto pensiamo anche a una donna che rimaneva proprio scoperta senza protezione come poteva essere Daishi o peggio ancora una donna di rango più basso che rimanesse senza appunto una protezione maschile la tua reputazione era sostanzialmente l'unica cosa che ti rimaneva quindi era un fatto serio all'inizio di questo romanzo questa è la seconda volta che lo leggo perché l'avevo letto anni fa quando uscì e mi ha colpito in realtà moltissimo delle cose che le altre volte non avevo notato il fatto che sia così ricorrente la tematica dello sfruttamento del corpo femminile cioè noi vediamo già all'inizissimo di questo romanzo vediamo tre modi di sfruttare il corpo femminile il primo è diciamo chiamiamolo il modello Teishi quindi usare le proprie figlie usare le donne per instaurare dei rapporti politici per muovere le leve del potere quindi usare i corpi delle donne la loro anche bellezza la loro avvenenza la loro capacità di tenere legato un uomo a sé per dei veri scopi politici quindi questo è il primo uso che di fatto era capricciante cioè proprio un mero sfruttamento il secondo uso è quello che Michinaga fa delle sue pedine quindi di donne ignare come Ayame Kureha che costringe per il semplice fatto che lui offre loro una protezione a corte che offre loro diciamo una sorta di vita alternativa a quella che avrebbero fatto rinchiuse in un santuario di montagna per il fatto di essere il loro patrono le costringe a fare delle cose tremende per i suoi sporchi giochi di potere quindi il fatto di non essere di non essere di indipendenti e che ti porta appunto a dover assecondare il potere anche quando non vuoi la terza forma di sfruttamento che era quella di cui non mi era accorta la prima lettura è quella proprio della medium cioè della sacerdotessa il fatto che il tuo corpo diventi un mero oggetto nelle mani degli dèi ma anche nelle mani degli uomini è che tu diventi proprio tu sia uno strumento un semplice strumento che gli altri usano un tramite che gli altri usano per fare il bello e il cattivo tempo inclusi gli dèi cioè persino gli dèi usano il corpo femminile per i loro sporchi comodi per infliggere del male agli altri per in un certo senso esercitare la loro autorità quindi è una cosa che mi aveva molto colpito e la volevo un po' condividere con voi adesso visto che siamo quasi un po' alla fine del nostro incontro andrei a recuperare le domande su discord visto che vi siete dato un sacco da fare anche nei commenti che c'era un po' vi ho visto un po' spiazzati in realtà per la forma per lo stile del libro cioè questo continua a saltare fra fatti storici citazioni narrazioni ho visto che vi è un attimo confuso però ho visto che tutti odiate Mishinaga io sono pronta a lanciare un nuovo hashtag Mishinaga on my merd io ve l'ho detto prendete nota Mishinaga on my merd e ho visto che siete rimasti tutti molto sorpresi dal fatto che rispetto al Genji cioè pure essendo ambientato nella stessa identica nello stesso identico background del Genji mentre nel Genji la politica era diciamo un po' uno sfondo che Murasaki Shikyubo ha comunque velatamente infilato qua e là però non c'ha proprio perché lei era forse troppo anche dentro i fatti per poterle parlare in modo esplicito ma lei diciamo lo fa passare un po' in sordina qui invece la questione politica è proprio centrale a tutto il romanzo allora leggiamo un po' le domande era normale che delle dame di compagnia si stessero i rapporti sessuali tra imperatore e consorte nel Genji non ricordo fosse proprio esplicitato anche se lui non si faceva molti problemi chi c'è c'è insomma allora beh sì assolutamente chi ti serviva ti doveva servire e basta in qualsiasi momento anche mentre stavi là sotto così è tutto felice o no dipende se vi ricordate per esempio pensate alla scena questa secondo me è abbastanza facile da ricordare la scena di Ukifune a Nijo quindi a casa della seconda signora quando Niou si accorge di lei inizia a tampinarla tipo me la dai me la dai me la dai me la dai e c'è la balia lì accanto che riesce in un certo senso a fermare un po' la cosa perché lei ostinatamente insomma si mette lì a barbicata a Ukifune però se la balia non fosse rimasta barbicata a Ukifune Niou l'avrebbe presa di peso davanti alla balia e gli avrebbe fatto fare tutto altro che quattro salti in padella quindi assolutamente la normale Carmen io ho una domanda che riguarda pagina 84 settima riga in cui si riportano alcuni eventi del Genji è riaccesa intenzionalmente la passione amorosa con la prima dama delle stanze interne Oporozukyo la figlia prediletta dell'imperatore ma Oporozukyo non era sorella minore della dama del Kokiden e quindi figlia del gran ministro della destra allora Carmen io non ho il testo originale sotto gli occhi quindi non so se è un errore di traduzione è possibile perché Enchi Fumico non avrebbe mai sbagliato un dettaglio del genere adesso recupero la pagina un secondo 84 si Karu Genji brava Carmen che l'hai notato occhio De Falco si hai ragione tu Oporozukyo non è la figlia prediletta dell'imperatore la figlia prediletta dell'imperatore è una sonnomia un'altra domanda so che esiste una teoria secondo la quale i personaggi dell'imperatore padre di Genji e Kirizuo sarebbero stati ispirati da Ichijo e Teishi purtroppo non ho trovato molto materiale in inglese al riguardo ma se non sbaglio esiste un volume al riguardo scritto dalla professoressa Yamamoto aggiunco cosa ne pensi nella mia ignoranza la cosa un po' mi stupirebbe perché Murasaki faceva parte dell'entoraggio avversario allora io purtroppo non ho fatto in tempo a procurarmi questo libro mi dispiace quindi non posso approfondire la cosa il fatto che Murasaki Shikibu abbia preso ad esempio una fazione avversaria in realtà non lo trovo strano nel momento in cui lei quando inizia a scrivere il Genji non faceva parte dell'entoraggio di Mishinaga cioè quando il Genji si apre con i fatti dell'imperatore Kiritsubo e di questa sua concubina che gli piace tantissimo la madre di Genji questo loro amore insomma folle in realtà Murasaki non stava ancora a casa sua presso insomma la sua famiglia originaria e lei non doveva niente allora a Mishinaga è dopo che lei inizia a scrivere il Genji che l'attenzione della corte insomma si rivolge su di lei e lei viene poi chiamata a servire quello che in quel momento è appunto il top del top e vi ricordo che comunque i fatti del Namamiko sono leggermente precedenti alla scrittura del Genji perché Murasaki Shikibu entra a corte quando anche Shoshi è effettivamente è già entrata nell'entourage di Shijou quindi i fatti Murasaki Shikibu arriva un po' dopo ed è possibile che lei si sia ispirata ai fatti più recenti cioè Shoshi era appena entrata a corte quindi forse il suo rapporto con i Shijou non si era ancora consolidato ed è possibile che Murasaki abbia semplicemente preso ispirazione da invece la grande eroe al capo il più recente non so se ha avuto senso questa cosa che ho detto spero di sì allora Darya scrive a pagina 98 quando Takaiya va a trovare Teishi la racconta del suo Kiryu lei è sconvolta sconvolta e cito con la mano spinse indietro i capelli neri che le scendevano su entrambe le gote come se le dessero fastidio per Takaiya era uno spettacolo penoso volevo sapere se questo gesto che appanna la sua leggiadria fa riferimento a quell'aspetto di cui avevamo già discusso nel Genji cioè che solo le donne di basso rango portavano i capelli dietro le orecchie o comunque via dal viso perché dovevano lavorare sì Daria grandissima che bello che vi ricordo tre cose che dico esattamente così chi si portava chi si scostava i capelli dal viso erano le donne di basso rango che erano di solito anche quelle che dovevano usare le mani Teishi è la donna di più alto rango in questo momento forse dopo l'imperatrice di Tiro e lei non deve usare le sue mani e di conseguenza il fatto che i capelli le incornicino il volto le coprano il volto per lei dovrebbe essere rilevante invece in questo piccolo attimo di debolezza anche lei abbandona per un secondo questa sua pervenza di perfezione e si appunto si scosta i capelli dal viso queste teorie mi fanno volare grazie mille ok allora vediamo che cosa è arrivato domenica limoni a fine pagina 33 scritto il padre della moglie di Mishitaka che aveva preso i voti ottenne un prestigioso innalzamento di rango credevo prendere i voti prevedesse l'allontanamento e esclusione dalla vita sociale e i suoi processi se eri di basso rango sì chi invece è di alto rango pensate per esempio a Fujitsubo Fujitsubo alla morte dell'imperatore prende i voti perché per diciamo togliersi dalla piazza non essere più non essere più come dire bersaglio di avance di cose però lei di fatto a quel punto diventa la persona più importante del regno perché diventa insieme a Genji quella che muove i fili del governo per il figlio per Reizei quindi lei assolutamente ottiene un innalzamento di rango e in generale tutti i grandi nobili che prendevano i voti poi venivano promossi magari non all'interno delle cariche politiche però ottenevano dei ranghi molto alti all'interno delle cariche ecclesiastiche che salivano di rango e quindi ovviamente anche le loro rendite aumentavano e venivano rispettati da tutti Graziella per me è fastidioso questo continuo passaggio tra saggio e narrazione ma ci si abitua ok beh non avevo calcolato che potesse essere fastidioso perché per me è abbastanza tranquillo il passaggio vi posso tranquillizzare sul fatto che i prossimi libri non saranno così questa è una particolarità del namamico come dimenticarsi la nutrice di okifune eh sì allora Dominica Limoni era usanza cambiare nome quando si entrava a corte come una madama a servizio dell'imperatore no allora la questione è questa non cambiavi nome ma assumevi un rango assumevi una carica ufficiale e siccome come abbiamo visto anche molto bene dal Genji non era si tendeva a non chiamare la gente per nome non c'era l'usanza di chiamare la gente per nome ma la si chiamava appunto per la sua posizione per la sua carica ufficiale o per la carica ufficiale dei suoi genitori o di suo marito o di suo padre il fatto che per esempio Kureha quando entra a corte e prende il nome di Koben non è che le cambia il nome all'anagrafe semplicemente entra nel ruolo di Koben che era un nome molto generico per delle ancelle c'erano un sacco di Koben come abbiamo visto un sacco di Ciuscio Ucon Sioscio erano tutti appunto nomi di cariche che sono intraducibili in italiano perché chiaramente noi non abbiamo mai avuto questa stratificazione così capillare no? delle cariche politiche però aveva perfettamente senso all'interno di quella che era l'organizzazione Eian queste teorie mi fanno volare ok allora direi che siamo stati insieme un'oretta e io ho parlato più o meno di tutto penso di aver riassunto più o meno tutti i fatti che avvengono in questa prima parte del libro la seconda parte del libro vedrete che poi inizierà a diventare un po' più cruda è un po' più violenta e molte molte delle tematiche che ci siamo detti l'altra volta appariranno evidenti non solo quella della possessione non solo quella del sovrannaturale ma anche le tematiche proprio un po' oscure cioè cos'è la femminilità e qual è il lato oscuro della femminilità e anche il 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 concetto di sacrificio insomma vedrete che ci sarà un sacco da discutere quindi io vi aspetto nei commenti su discord la prossima settimana ci ritroviamo per parlare non della seconda parte di Namamiko perché vi voglio lasciare un po' di tempo per leggervela ma di un altro racconto sempre di Enchi Fumiko che vi ho condiviso nel calendario dovrebbe esserci il link e niente ho pensato che sarebbe stato carino guardare anche un po' dei suoi racconti più brevi vedere le tematiche ricorrenti e discuterne insieme e basta niente grazie mille per avermi seguito anche oggi vi auguro un bel fine settimana un basso a tutti ciao ciao ciao